Una bambina e bambina, l'abbiamo tirata fuori poco fa e adesso dopo è stata consegnata ai medici che l'hanno portata in ospedale, presso all'ospedale di Ascoli. Quali erano più o meno le condizioni? La bambina è stata benissimo, sta bene, nessun graffio, nessuna ha parlato, benissimo, molto bene, impaurita, ovvio impaurita, però bene. Quanti sono venute per tirarla fuori? Da stamattina, abbiamo andato a stamattina intorno 10-12 ore per tirarla fuori, con tutto, con i gommani, paranchi, di tutto di più, abbiamo adoperato, abbiamo sentito dei lamenti e ci siamo concentrati tutti quanti lì per tirarla fuori. Che emozioni si provano? Indescrivibile. Ci avete visto che salire, no? Il modo è questo, la contentezza è tanta, è tantissima, quindi non ce ne so. Facciamo di gioia. Ok, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao.